Musica E ciao ragazzi questo qui è un piccolissimo video bonus dove vi mostrerò le cose che ho trovato minando Ho deciso di fare un video separato visto che magari per alcuni potrebbe annoiare vedere me che trovo roba random e faccio cose random Quindi ho deciso di fare degli episodi separati senza però il commentary perché queste cose qua le faccio mentre che magari i miei sono qua vicino a me quindi non posso far video Diversamente spero che la musica commesso vi sia piaciuta se ne avete poi qualcuna da consigliare ovviamente free copyright fatelo pure qui sotto nei commenti e vi lascio col gameplay anzi lo state già guardando Grazie a tutti 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 Grazie a tutti